Invece di parlare di PIL, parliamo di posti di lavoro. Avevamo poco più di 2 milioni di disoccupati nel 2008. Mi ha perso quasi 700 mila. Adesso siamo probabilmente contati bene, adesso mentre parliamo siamo a 3 milioni di disoccupati. E questo è il problema. Tutto il resto... Questo influisce seriamente sulla vita delle persone direttamente coinvolte, cioè degli disoccupati e dei loro familiari. E poi, in maniera un po' meno diretta, ma comunque sentita con il tempo, sulla vita di tutti quanti noi. Nel senso che quei 115 miliardi, non è che tutti quanti l'hanno pagati nello stesso modo. Però, in qualche modo, tutti quanti ci siamo impoveriti.